Si apriranno martedì 7 gennaio le iscrizioni ai servizi di ristorazione di pre e dopo scuola per l'anno scolastico 2020-2021. Come già l'anno scorso dovranno essere effettuate online sul portale como.civis.it. Questa modalità si è dimostrata efficace ed economica anche considerando che tutti i genitori e tutori devono comunque utilizzare il portale telematico per i pagamenti. Per il servizio di ristorazione scolastica la finestra delle iscrizioni va dal 7 gennaio al 15 febbraio 2020 con accettazione delle iscrizioni successive secondo ordine cronologico delle domande e in base ai posti disponibili nei rifettori. Per i servizi integrativi di pre e dopo scuola iscrizioni dal 7 gennaio al 31 marzo 2020. I servizi saranno attivati nel rispetto dei numeri minimi previsti dal regolamento comunale per la gestione e la fruizione dei servizi scolastici. Le iscrizioni dovranno essere inoltrate da chi iscrive per la prima volta i bambini alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria o chi li iscrive per la prima volta al servizio di ristorazione scolastica. Per i bambini già iscritti al servizio di ristorazione che rimangono nello stesso plesso scolastico non è necessario presentare una nuova domanda.